Sono il volto sano e pulito dello sport, sono i dieci nuovi ambasciatori dello sport e del benessere che il Consiglio regionale del Piemonte insieme agli stati generali dello sport e del benessere ha voluto premiare per il loro impegno e per la loro dedizione, consegnando idealmente a ciascuno il compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori di correttezza e di lealtà che sono alla base delle discipline sportive della vita. La cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte il presidente del CONI Piemonte Gianfranco Porqueddu e il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici Tizia Nenasi è stata occasione anche per raccontare le storie sportive personali dei neoambasciatori. Dalla pluricampionessa olimpica e madrina dell'evento Stefania Belmondo alla vincitore dell'ultima maratona di New York Gianni Stella dalla promessa dell'atletica paralimpica Farah Adafo al campione di palanonastico Massimo Berruti dal campione di rugby Amid Ennaur alla campionessa di nuoto Carlo Tagilli alla medaglia d'oro di Roma 60 Lidio Berruti. Atleti che hanno scritto e stanno scrivendo la storia dello sport piemontese tutti interpreti di una serie di vita che merita di essere portato ad esempio a chi si affaccia sul palcoscenico delle competizioni a tutti i livelli. Tra gli ambasciatori anche i gemelli Bernardo e Martín De Matteis campioni di corso in montagna e il difensore del Torino Emiliano Moretti. Viviamo lo sport con semplicità, con passione secondo me sono valori da trasmettere anche ai giovani noi iniziamo ad essere un po' meno giovani però tutti i giovani che incontriamo cerchiamo di trasmettergli quella passione che alla fine è un po' il motore dello sport ed è anche della vita. Il lavoro, la costanza sono quelli che pagano e a volte è difficile bisogna avere la capacità però di non mollare perché i momenti difficili ci sono per tutti e se uno non molla le soddisfazioni sono più grandi e i risultati sono più forti delle fatiche, degli impegni, del lavoro. Insegnare a questi ragazzi che per raggiungere un qualsiasi obiettivo nella vita serve tanto lavoro, tanta costanza, tanta voglia, tanta passione e queste credo che siano le basi che anche a me hanno permesso di riuscire in quella che è la mia passione di arrivare a 37-38 anni e riuscire ad esercitarla ancora. Un ricordo particolare è andato ad Andrea Chiarotti leader dell'Hockey Paralimpico Nazionale recentemente scomparso un grande capitano e come ha voluto sottolineare l'azzurro Andrea Macri un maestro capace non solo di fondare la disciplina del parochie ma di realizzare i sogni di tanti ragazzi.